ciao a tutti ciao manuele ciao benedetta buongiorno ho delle domande per te oggi ok ho tanti armatori che mi chiedono qual è la soluzione migliore per essere connessi a bordo e allora in un mondo come quello di oggi in cui cambia tutta la velocità della luce in cui essere connessi non è più lusso ma è una necessità è fondamentale anche il tipo di connessione importante quindi avere una connessione che sia stabile e veloce è anche questa una necessità esiste la soluzione migliore tu che esperto di telecomunicazioni mi hai sempre consigliato alla soluzione migliore beh oggi sicuramente è un momento di cambiamento un cambiamento epocale per le telecomunicazioni satellitari oggi si parla si parla tanto di starlink che è una nuova soluzione che ci permette di stare connessi ad alta velocità quindi come definiresti starlink di alon musk beh starlink sicuramente lo definisco come il progetto pilota di queste nuove tecnologie di queste nuove tecnologie satellitari siamo tutti curiosi di vedere come si comporterà sul mercato perché sarà un momento importante le premesse sono buone possiamo dire che è in fase di sperimentazione sì sicuramente in fase di sperimentazione ad oggi ci sono molti sistemi installati e molti sistemi già operativi però non conosciamo la reale bontà del servizio quando ci saranno molti sistemi installati quindi magari si va incontro a delle situazioni di congestione di traffico dove le velocità si riducono automaticamente quindi siamo in una fase di sperimentazione per conoscere l'evoluzione di questa tecnologia e quindi quali sono le differenze principali tra le tecnologie esistenti e starlink io voglio installare starlink ma a bordo anche il busat che cosa consiglieresti di fare beh al momento io consiglierei di tenere entrambe le tecnologie attive perché sicuramente il busat è un sistema rodato che da molti anni è presente sul mercato naturalmente non non ha le performance di starlink oggi però chi ha sistemi busat installati a bordo il mio consiglio è quello di tenerli magari anche con una riduzione dei costi di esercizio del traffico però non non eliminarli del tutto ad aspettare un attimo per vedere come si comporterà starlink sul mercato e anche i futuri player perché starlink non sarà l'unico ma allora quali sono i vantaggi di starlink rispetto alle tecnologie esistenti beh sicuramente il primo vantaggio sono i costi sono drammaticamente scesi e quindi sono completamente cambiati sia i costi di acquisto del sistema e sia i costi di gestione per avere delle velocità più alte la copertura di starlink una copertura globale allora possiamo dire che oggi la copertura di starlink è globale quindi in mare o anche in zone terrestri la connessione c'è però dipende anche molto dai governi quindi dalle autorizzazioni governative capire se ci sono delle restrizioni locali comunque mare aperto starlink funziona ovunque starlink è semplice da installare a bordo giusto molto semplice perché basta guardare le dimensioni dell'antenna che è questa come vedi è un flat panel poi l'evoluzione della tradizionale parabola di casa che uno si immagina quindi ha solo un cavo di connessione poi una volta che è connesso alla rete di bordo basta attivare un abbonamento il traffico il sistema attivo per dare traffico ma quindi quali sono i costi di installazione di gestione ma i costi di installazione gestione chiamare un tecnico competente per l'installazione a bordo quindi di servizio di bordo e l'acquisto dell'hardware del sistema che oggi è comunque relativamente basso rispetto alle tecnologie v-sat di cui parlavamo prima questa antenna su quale tipologia di imbarcazioni si può installare allora questa qua è la versione marina quindi la puoi installare in qualsiasi natante o nave anche o mega yacht senza sempre lei naturalmente per avere più velocità per avere più disponibilità devi montare più antenne la versione base diciamo contratto base prevede una sola antenna con una tipologia di contratto che ti dà la possibilità di avere una velocità fino a un terabyte disponibile mentre se metti due antenne hai disponibili 5 terabyte e così sempre sempre di più non dipende dalla dimensione della barca ma dipende dall'esigenza dell'armatore quindi l'armatore se ha bisogno di avere sempre più connettività disponibile dovrà mettere almeno due antenne per avere 5 terabyte disponibili ma c'è pure chi fa l'uso personale di questa antenna uso personale cosa intendi sono per lui sì certo sì 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 certo certo io noi abbiamo installato su alcune imbarcazioni mega yacht di cui non ti farò mai il nome no mai però gli armatori hanno un sistema dedicato solo per loro lo tengono segreto lo tengono segreto agli ospiti lo tengono segreto agli ospiti e quindi a questo punto viene bene una domanda quali yacht possiamo svelarli qualcuno quali yacht hanno deciso di installare a bordo starlink tanti tanti sicuramente è il prodotto del momento perché ormai le esigenze degli armatori sono quelle di rimanere sempre connessi anche nei momenti di ferie nei momenti di relax però ormai passa tutto tramite qua anche il divertimento l'intrattenimento tutto passa tramite internet quindi è necessario ormai avere delle velocità adeguate e delle connessioni stabili perché ormai sei abituato a vivere nel quotidiano tra casa ufficio determinate velocità e quindi per replicare questo status hai bisogno di installare nuovi sistemi come starlink con l'evoluzione tecnologica è cambiato anche il design pensi che si dovrà rivedere qualcosa i designer dovranno rivedere qualcosa noi siamo abituati a vedere il cupolone a bordo per questa è una bella domanda perché anche io me la faccio sicuramente sinceramente però credo che le progettazioni di queste meravigliose bar che stiano già cambiando perché comunque sì il design delle antenne è cambiato l'evoluzione del mercato come dicevo prima in corsa e quindi probabilmente tutto questo subirà cambiamento anche visivo come dicevi tu noi siamo abituati a vedere barche ormai disegnate con queste grandi cupole e vedremo cosa si inventeranno questi designer del momento fatto la nuova della nuova tecnologia prevede appunto che sono dei si chiama tecnologia leo che significa low earth orbit che sono sistemi di satelliti a bassa orbita quindi la velocità del segnale del rimbalzo è superiore rispetto ai precedenti quindi il segnale da terra al satellite e a tornare indietro è molto più veloce perché sono a bassa orbita mentre prima dovevano fare un tragitto superiore quindi è come stare su una torcia sul mondo in cui tu avvicini la torcia e il segnale diventa più stabile e si propaga meglio si propaga meglio se lo allontani si si propaga meno bene è più lontano quindi c'è una come la chiami latenza latenza diversa esatto corretto così hai detto bene emanuele abbiamo parlato di tecnologia di futuro quindi sposto il focus su un altro argomento ma mi viene spontaneo perché parliamo di giovani giovani che amano il mare che sono interessati a lavorare in questo settore perché consiglieresti a un giovane di venire a lavorare nel vostro ambito beh sicuramente guarda quando io ho iniziato ero un giovane anch'io non sapevo nulla di mare sapevo pochissimo anche se sono genovese genovese doc però ho scoperto che è un mondo affascinante è un mondo di nicchia ed è un mondo che è sempre in evoluzione quindi ci si conosce tutti ci si vuole bene ci si rispetta siamo concorrenti ma comunque è un bel ambiente quindi prima di tutto dico che il nostro ambiente ancora un ambiente sano e protetto poi naturalmente chi vuole o chi ha le basi di per poter entrare nel nostro particolare settore è un mondo con continua evoluzione quindi le tecnologie sono in continua evoluzione riportarle nel settore del mare nel settore marittimo è molto bello e stimolante noi abbiamo una squadra di giovani che fanno gli sviluppatori per esempio ma comunque anche altri giovani in settori in azienda ed è bello vedere che hanno questo tipologia di entusiasmo e poi abbiamo bisogno di menti fresche e che abbiano una visione diversa dalla nostra e allora per aiutare i giovani che competenze devono avere per lavorare nell'ambito in cui lavori tu nella specifica innovazione evoluzione tecnologica beh sicuramente il momento più particolare di che stiamo vivendo come dicevo prima sono le telecomunicazioni quindi una base di studio nel settore delle telecomunicazioni è importante poi tutto quegli aspetti che oggi riguardano la digitalizzazione le nuove tecnologie sono fondamentali sono molti investimenti dietro le aziende investono molto in questo settore però è difficile ancora trovare le persone giuste e poi non ultimo la lingua che è fondamentale ormai avere almeno la conoscenza dell'inglese si trovano i giovani adesso con queste competenze si trovano sì solo che viaggiano a velocità diverse e quindi è difficile riuscire a integrarli bene perché comunque hanno una visione del mondo del lavoro completamente diversa rispetto alla nostra e quindi anche per noi è difficile riuscire a trovare questo tipo di integrazione quindi è un lavoro che non devono fare solo loro ma dobbiamo fare anche noi perché capire che sta cambiando tutto e quindi dobbiamo essere più coscienti di questa cosa sicuramente perché viviamo nell'era della grande rivoluzione tecnologica e quindi come dicevamo il mondo in sei mesi può cambiare sì ormai puoi lavorare ovunque in qualsiasi momento grazie alla connessione grazie alla connessione e oggi starlink ti aiuta anche per questo grazie Emanuele grazie a te benedetta